Buongiorno a tutti e benvenuti a un'edizione straordinaria delle nostre analisi su DAX e Mib, quella dopo il dato americano che tutti aspettavano. Però facciamo un passo indietro. Vi ricordate l'analisi che vi ho proposto questa mattina in cui vi segnalavo che ieri avevamo andati long in quest'area qua, poi il mercato ci era venuto conto e poi avevamo aperto qua con due cadenelle rosse e qui speravamo, anzi sperare una parola strana. Stavamo valutando se avremmo avuto spinta, se non ve lo ricordate la trovate sul canale YouTube come al solito. Ecco, ci è stata spinta, quindi siamo andati a guadagnare bene, ma torniamo sul gruppo premium in modo che possate vederlo più semplicemente. Ieri ho segnalato che si poteva entrare con un secondo chip long rispetto a dove vi ho detto che siamo entrati, perché entriamo anche con più chip, sempre stabilendo quanto è il massimo del capitale che si può utilizzare in base al denaro che si ha. Sarebbe meglio avere almeno 10.000 euro, anche 5 ma frazionarlo e utilizzare la corretta cifra per non rischiare di patire troppo quando poi il trade eventualmente ci viene contro. Avevo segnalato alle 17.28 che sarei andato in overnight con uno stop loss che ho indicato poi in chat e poi ho parlato dell'S&P 500. Questa mattina appena il mercato ha aperto alle 9.12 ho segnalato che l'inverso poteva partire e quindi salire su e segnalato alle 9.37 che se questa candela teneva potevamo inserire appunto un secondo chip long. Ritorniamo alle 9.37, su questa candela qua, il minimo di questo ha tenuto, noi siamo entrati con un secondo chip long, una seconda quantità long che per me sono future, per gli altri magari sono minifib, per altri sono certificati, piuttosto che lo strumento più corretto alla quantità di denaro che potete utilizzare per fare trading. E che cosa è successo? Sono arrivati gli HFT ed essendo noi long con un prezzo intermedio intorno a questo livello qua, orientativamente, siamo andati a guadagnare estremamente bene. Perché? Seguiamo sempre il gruppo premium. Entrati con, è arrivata poi l'analisi che tutti avete visto, sono arrivati, ho postato come al solito i livelli che potevamo andare a raggiungere e tra l'altro li ho anche segnati sotto l'analisi su YouTube, nei commenti che si possono fare. Perché quando ho la possibilità di avere un mercato che si muove, allora è bello poter dare una mano a tutti, anche quelli che comunque sono entrati ma non fanno parte del gruppo premium. Quindi ho dato indicazioni, potete andarle a vedere direttamente appunto sul canale. Eccola qua, no. Qui è ancora musica, video, qui. Ok, grazie per la reclam. Vedete, li ho postati qui sotto. Eccoli qua, uno, questo, questo, 493. Anche questo guardiamolo. 493 è stato raggiunto e siamo andati ben oltre il 493. Noi, già qui, quando ci ha fatto i 521, abbiamo venduto. Pensavamo di aver venduto bene, ma ha fatto ancora un tratto in salita, prima di fare che cosa? Sempre nel premium. Festeggiato il gain dato da long, ok? Lasciate correre i profitti, abbiamo seguito in trailing, ovviamente. Target centrato, mi accontento del livello centrato, ovvero quello che avevo dato a 23.493. Quest'area qua, 23.943. Eccolo qua. 23.493. Questo qua, praticamente, abbiamo venduto qui sui massimi, ma ha fatto ancora sopra. E poi che cosa abbiamo fatto, però? Poi, ok, take profit scattato, bla bla bla. Qui si giustificava che le borse erano brillanti per l'attesa dell'inflazione USA. Arriva al dato, anzi, arriviamo al tempo corretto per iniziare uno short con tecnica 2, il più rischioso, alle 13.57, lo vedete, 52.57. Ok. 13.57, torniamo qua. 13.45. Eccoci qua. Valutare uno short. Riguardatelo. Ok. Valutare uno short. In anticipo rispetto al raggiungimento di entrato, entrato con il primo chip short. Quindi, vedete, potete vedere che è vero. Non c'è molto da fare. Si va a prendere il primo target con gli HFT, target dati ovviamente sempre da livelli di algoritmo postati a inizio mattinata, perché così operiamo. E dopo il primo gain siamo andati appunto, ecco qua, short, a fare un secondo gain con già un take profit impostato in modo da non rischiare di perdere neanche un euro. questo, quindi, l'abbiamo preso dai massimi praticamente in rottura di questa candela e l'abbiamo venduto più o meno in quest'area qua. È vero, non abbiamo venduto sui minimi, ma su dove avrebbe potuto praticamente rimbalzare. Che cosa ho fatto? Un'altra candela rossa e dopo che noi avevamo venduto short e come detto siamo andati in gain, 14.34, abbiamo continuato a farci di realizzate insieme festeggiando le due operazioni in gain, quella che ieri sembrava in perdita, mediata qui, che è andata su e abbiamo venduto da qui. Quindi, ottimo guadagno, con anche una seconda su cui abbiamo preso quasi tutta la discesa prima che ripartisse a risalire. Per cui, chi commentava qui, ah, forte discesa, anche su DAX, guardate, disastro, anche su Bitcoin, che però adesso ha fatto questo rimbalzo qua strano prima della chiusura dell'antiquattresima candela. E tutti i mercati allineati perché la Fed ha detto che ci stiamo rimangiando il movimento dappertutto, qui con gli interessi, con un quinto T-3 inverso, un quinto ciclo inverso che è già diventato ribassista, vero, che può spingere verso l'alto, che è arrivato soltanto a 11 barre su minimo 24. Cioè, eh? Qui, stessa identica considerazione, però ho fatto questo video non soltanto per dimostrarvi che non raccontiamo fandonie, ok? Che questo è un canale serio, ma anche per tanti altri motivi. Il primo era facciamo sempre attenzione a provare operazioni contro il trend principale che, come detto, rimane in ogni caso ribassista. Adesso abbiamo una candela di questo tipo, ma ieri avevamo una candela così verde che si è svuotata ed è diventata questa. Guardatevela bene, vi allargo un attimo quest'ultima parte. E come detto, il ribasso può continuare. Qui stiamo andando a fare che cosa, peraltro? Uno, due, tre, quattro, cinque, una chiusura di T-1 inverso, semplicemente, che potrebbe o da resito di discesa o di salita a seconda che vogliono chiudere subito questo T inverso, oppure continuare a spingere giù per una partenza di messi inverso, come al solito, controllata con i swing. Ma le tante cose di cui volevo parlare vi sono, appunto, evitate il più possibile di fare operazioni contro trend che eventualmente vi costringono ad andare in overnight, come abbiamo fatto noi. Poi è andata benissimo. Però oggi è una giornata estremamente movimentata, come state vedendo. Seconda cosa, vedete che operiamo nel breve, soprattutto quando ci aspettiamo, sì, un rimbalzo, ma stiamo aspettando di vedere, di chiudere un ciclo ribassista, per cui meglio operare con trade in intraday, che si chiudono e eventualmente si riaprono, qui siamo andati long, qui siamo andati short, per porzioni di mercato che ci dà un vantaggio estremo, quello di poter già essere liquidi se il mercato ci viene conto. È vero, a volte bisogna essere davanti ai monitor, ma nella realtà, difatti, programmando in anticipo le cose, su Discord, abbiamo la possibilità anche di dare immediatamente dei target che sono già presenti, peraltro, a inizio mattinata. Basta segnarseli, quindi si sa quali sono i livelli di algoritmo. Per cui, anche se si lavora, il messaggino di Discord che arriva, ok, aspetta, dobbiamo prepararci a fare questa roba qua. Metto in macchina, metto il mio take profit e poi se posso seguo, se non posso, inserisco già il take profit target per la chiusura dell'operazione e faccio tutto. Per cui, oggi è una giornata matta, vediamo cosa hanno voglia di fare, se dar corsa a questa roba qua o diventerà un raccordo inverso di grado, dunque dovrebbe essere, se questo è un T inverse, T meno 1 inverso, dovrebbe essere un T meno 4 inverso, ovvero, in media 4 ore e noi siamo a, 4 per 4 fa 16, noi siamo a 10, ok? Quindi attenzione a pensare che si sia vincolato tutto a rialzo. Io voglio vedere, innanzitutto, questa zona qua. Stessa identica cosa su DAX, siamo tanto vicini a una media mobile a 200 periodi, è vero che stiamo valutando di andare in Golden Cross, ma sapete che da soli gli indici non portano da nessuna parte. Quindi per oggi, direi che ci fermiamo, festeggiamo i due gain su due operazioni fatte e, come di consueto, ci prepariamo a programmare la prossima, perché questo è un metodo statistico-matematico, non discrezionale, in cui non è che io penso che e la Fed mi adeguo semplicemente a quello che mi dicono gli swing e che mi dicono le regole. E come vedete, la statistica parla chiaro, due su due. Anche se fuori fa un caldo pazzesco, ho dovuto chiudere una delle due gigantesche finestre dell'ufficio, se no, prendevo fuoco. Anche se c'è la Fed, anche se c'è tutto quello che volete, noi siamo pronti. perché sappiamo come operare, perché questo è trading a livello professionale. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. La mia lo è sicuramente perché fin dalla mattina mi ci ero predisposto dopo aver lavorato, studiato per tanti anni. Arrivederci.